Spara quello! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa! Non c'è c'avevo chance! Oh ficca! ‫'é più vigente! Non c'è niente qua! Ti puoi do la piazza! Bloco, poco! Dobbiamo challenge questi! Ok, arriva? Non arriva più perché atterra? Stazione, uno atterra dentro! 2 a terra dentro Un altro risato dentro Oh sono tutti male dentro Non sei risato 2 a terra Push a subito Finito 2 finiti Manca uno in 3 A terra Push duro No 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 E' un po' di un cazzo E' un altro caso gente Un bordello Un bordello Un cilindro Un cilindro Vecchio è un bordello Sto terra ando lì E' un cilindro E' un cilindro Eccolo Di prima Finito 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 Un lancio Di cui faccio vento in arrivo Lancio una stordente Centro Finito Finito No c'è uno sotto Porco dio Non ti Lo abbiamo Ciao No c'è uno sotto No c'è uno sotto Un problema Non c'è uno sotto Un problema Non c'è uno Kardion E' toccato Oh ma il tuo è troppo non è giusto la cosa E' un altro C'è un altro Arrivato qui Dov'è? Uh eccola Bingo! Bingo! Acorda? Ti copro Alla nuova zona segura Ok Ok E' camperano Vosso passi gente gente Uh! Uuuu No! Grazie Ok 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 On ok Ok No, non so No, non so Tranquille ragazzi, ce l'abbiamo il content Cainide e Muhammad Dali Ciao Sbutto Grazie Guarda l'imbecille che mi ha sparato Che mi ha vittato neanche una volta Tipo Adesso le terro in bocca per i bastoni calidi A che non gli faccio un male bestia Dlin 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 Crazy bro, crazy Si Anche lì dentro No, no Mi colpiscono Mi colpiscono Mi colpiscono Mi colpiscono Mi colpiscono Mi colpiscono Ahahahah Se cosa Se lei male è come fa' un culo Mi colpiscono Mi colpiscono